Una partita sicuramente di marca figurina che poteva anche, non dico chiudere qualche sita, ma fare in più di qualche gol. Invece poi si potrebbe dire che in sbagliare nel secondo tempo è uscito la Versa. Sì, diciamo che nel tempo forse qualcosina in più noi, però nel secondo tempo noi iniziamo una zero. La Versa aveva delle difficoltà a trovare spazio, tant'è vero che ha avuto una sola occasione sulla bella parata di Forte. Noi abbiamo avuto due o tre situazioni di contropiede, di cui una clamorosissima dove non abbiamo fatto il due a zero. Alla fine avevano un po' più di campo nel secondo tempo, però non hanno creato nulla che ci potesse preoccupare così tanto. Io ho notato anche un tiro di Grie e poi un altro di Prisco, quello di Terzo. Però a di questo il giudizio fu da lì il loro di oggi? Una buona gara, abbiamo fatto una buona gara, siamo stati bravi a tenere il campo. Avevo detto alla vicina che comunque era una squadra, giocava bene, avevamo vinto la partita. Insomma, alla fine in questo momento era importante mettere dentro dei punti. Non ci siamo riusciti a metterne dentro tre perché al 95 siamo stati forse, pensavamo fosse già finita la partita. Siamo stati un po' troppo leggeri in una situazione, però mi dispiace perché secondo me oggi abbiamo perso due punti. Senti, solo una casualità, che la Mercedes è fatta pericolosa soprattutto nel finale dopo l'ingresso di Rodinei. In che senso? Voglio dire che adesso c'era il 2, le indizie che dopo l'uscita di Lattanzio ha spinto di più, forse perché Rodinei non ha coperto molto bene. A Tanzio era stanco, aveva corso tanto, era stanco, era nervoso, quindi il 2 nel senso ha avuto campo, ma da lì non sono partite delle azioni particolari. Mercurio ha giocato benissimo, quindi almeno era un grave per la difficoltà. Questo è la mia... Quando un calciatore entra in campo ha delle disposizioni, poi magari soprattutto quando entri dalla panchina non riesci a entrare in partita, questo è il motivo, non perché è stato detto stai dietro. No, 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 io sono soddisfatto, però come ho detto quando ho vinto con Matera, un punto poteva anche andare bene perché abbiamo fatto gol al 93esimo, oggi abbiamo preso quasi il gol al 95esimo e anche io forse al 95esimo penso di aver quasi vinto la partita. Batte il fallo laterale, mandiamo la palla su e finita la partita. Quindi è soltanto un attimo, è stato un attimo che è stato fatale. È normale che prendere gol al 95esimo si sono persi due punti. Parte il minuto finale dove chiaramente bisognava solo difendere il risultato, però ci sono state le sue risorse che la squadra poteva approfittare meglio delle ripartenze, visto che loro erano quasi tutti a mano. Sì, sì, questo sì, potevamo approfittarne, infatti è entrato a Rondinelli proprio per questo motivo, come rispondevo prima, è entrato per sfruttare più le ripartenze da quella parte dove Letizia spingeva molto e aveva anche il campo. Quindi l'intenzione nostra, mia, era proprio quella di avere Rondinelli più fresco, quindi fare l'ultima mezz'ora e metterli in difficoltà nella zona destra, cosa che non è stato perché il ragazzo non è entrato in partita. Se ti chiedessi cosa c'è da migliorare in questo biglopro, magari che dico la fase di pensiva sui esterni, visto che magari i pericoli sono arrivati proprio, non troppo, vedi anche l'occhio, ma anche le occasioni che hanno avuto? No, non sono molto d'accordo, perché oggi il migliore in campo è stato sincropico, quindi quello che l'altra volta ha causato il rigore, quello che l'altra volta entra, Manganaro era stanco ed è uscito, Paolo Mercurio quando è entrato ha fatto bene, quindi probabilmente dobbiamo essere più bravi a sfruttare gli spazi che ci danno gli avversari, quindi ci stanno più che altro nella fase di possesso, quindi sulle ripartenze, però dietro oggi, secondo me, hanno giocato molto bene. Può anche starci, è normale che al 95esimo pregusti la vittoria, però il calcio è questo, abbiamo vinto al 93esimo contro il Matera, oggi agli ultimi 30 secondi abbiamo subito il pareggio, è normale che quando stai già pregustando la vittoria ci resti un tantino amato, però sapevamo di incontrare una buona squadra che l'ha dimostrato anche sul campo, voglio dire che il risultato è giusto, ci prendiamo quello che ci dà il campo sapendo che comunque abbiamo mostrato ancora una volta la classifica e questo da un punto di vista di classifica è una cosa importante, è normale che in casa cerchi di ottenere sempre il massimo, però c'è quando ti va bene e quando non ti va bene. Quindi c'è un parere diverso, no? No, assolutamente no, no, no. Non hai parlato che sono due punti persi? Beh, due punti persi, perché stavi pregustando la vittoria è normale, due punti persi, negli ultimi 30 secondi del quinto minuto di recupero prendere gollo ti fa male. Però c'è un bel compresso? Ci può stare, ci può stare, assolutamente no, assolutamente no, sapevamo che è una buona squadra e l'ha dimostrato sul campo la versa di essere una buona squadra, permonestando che avessimo vinto non avremmo rubato nulla. Chiaramente questo è un discorso che bisognerà fare più in là, però ci si può cominciare a pensare adesso. Sembra che la vita non ha grandi cambi a disposizione. Ma noi lo sapevamo, quando abbiamo accettato l'incarico, e voglio rimarcare che quando ho accettato l'incarico e poi ho fatto mio il progetto e poi ho interpretato il mister, e il mister ha fatto anche suo questo progetto, sapevamo di avere a che fare con delle risorse molto limitate e mi preme sottolineare che in quel momento c'erano ancora tre retrocessioni in ballo, quindi una retrocessione è uscita dopo. Noi abbiamo accettato l'incarico, sapendo i rischi che correvamo e che corriamo, quando c'erano tre retrocessioni. È normale che ora, che c'è soltanto una retrocessione, sarebbe utopistico credere e pensare di poter andare a chiedere alla società ulteriori investimenti. No, è un discorso che bisognerà fare a gennaio, ma adesso cominciare a pensarci. Pensare, sicuramente abbiamo dei giovani che il mister è così bravo che sta facendo crescere, è normale che i giovani ti danno tutto in un momento e ti combinano anche qualcosa, il gol oggi, un po' di attenzione in più, forse potevamo evitarlo, perché ci sono state più situazioni nella stessa azione, quindi questo vuol dire anche la squadra giovane. Però noi dobbiamo soltanto cercare di centrare una tranquilla salvezza, con meno patemi d'animo possibile e credo che siamo sulla strada giusta. Poi, se qualcuno vuol fare voli pindarici, non siamo certamente né io né il mister, né la società, è normale che poi se il campionato dovesse regalare qualcosa di più, saremo contenti di accettarla, che ben venga. Però, ripeto, noi abbiamo guadagnato un altro punto sull'ultimo in classifica, siamo contenti così e dobbiamo lavorare sapendo che dobbiamo ancora crescere. Questa è una squadra che ha una prospettiva futura, non dimentichiamo, è una squadra giovanissima e pertanto siamo contenti di quello che finora oggi ci ha dato questa squadra, credo sia sugli occhi tutti, fino ad oggi eravamo nelle prime tre giornate, la sorpresa del campionato, un pareggio in casa con la Versa giunta al 95esimo, credo che non abbia assolutamente sminuito il lavoro del mister e della squadra fino ad oggi. Quindi, voglio dire, è normale, la delusione non c'è, prendere gol al 95esimo ti lascia la mano in bocca, però l'altra volta abbiamo vinto al 93esimo, quindi il calcio è questo. Nel bene e nel male. che si è fatto? Ho avuto un leggero risentimento al nervosciatico e per questo il mister. Non soffre di questo problema. L'involuzione era un cambiato al cambio oppure hai dovuto camminare in corso? Non è, non lo c'era. No, era importante magari, mi trovi a male che è più grande perché adesso ci sono due cose stesse con sacutino. No, no, non sta convivendo da più tempo con questo problema, il mister lo sta su medico, lo sta gestendo bene, poi ci sono anche entrato, credo che non è che abbia fatto poi tanto male. Purtroppo ha segnato all'uomo che doveva marcare lui, però questo non vuol dire niente. La squadra mister Martedì, la ripresa, cosa tra le due lettere e proverà? A nulla in particolare, come sempre, andremmo a guardare le cose positive e le cose negative. Ovviamente, ovviamente, la Sonia cerca di vedere sempre comunque il bicchiere mezzo pieno, in caso di pareggio, perché, come diceva il direttore, i nostri obiettivi sono altri. E ti passa, a tutti, ma tu sei un po' di una bimbo, per il corso da sempre sui dati di un'area che c'è un po' mi interessa, a voglia di parte di voi, questo deve andare appunto su queste recluzioni, su un po' di una bimbo di un po' di un po' di un po' di un po' di un po'. Chi ha visto la parte dei ribagni ha fatto i gol a lo stesso modo? Sì. È il tempo che non sia nella sua risa. L'uguale, lo stesso, quasi proprio. Faccio moderno, 70-80% dei gol avvengono così. Quindi... Se possiamo, come dire, essere tranquilli dopo quattro partite con otto punti, quindi per forza dobbiamo andare a Brindisi e cercare di fare comunque le gran partite. Rispettiamo molto il Brindisi, sappiamo che è una squadra molto forte, però non è sicuramente pensando che l'ho già perso perché non è nella nostra indole. Noi abbiamo detto che siamo molto umili, però comunque sappiamo che abbiamo delle potenzialità. Per questo, dicevo, quattro partite, otto punti, sono delle... Stiamo dimostrando le nostre potenzialità. Certo. Senti, l'ultima cosa. Sentiamo qualche buon morì o no, non è la mezza, magari se da quest'anno, tipo l'onimè, l'alcanza, quando fanno qualche roba, non so se l'hai notato anche tu. In un anno vuoi puntare così noia ai ragazzi che magari sono anche giovani? Sì, secondo me sì. L'ho notata? Sì, sì, l'ho notata, è vero, sono d'accordissimo, però non mi posso metterli a dire alla gente che non fate così. Forse perché, non lo so, giocavano qui l'anno scorso o l'hanno fatto queste cose l'anno scorso, ma noi sappiamo di puntare su questi ragazzi e purtroppo quando sei giovane ti giri, guardi la tribuna, io me ne accorgo, me ne accorgo. E infatti dobbiamo cercare di farli stare tranquilli e fargli capire che per noi sono quello più importanti. Ma usandoli? C'è il mister... Sì, sì. Stiamo usando con lui. Con il mister Ross, sì. Sì, soprattutto fino alla fine. Sì. Allora, per come è stata la partita penso che il pari sia giusto. Nel primo tempo la Mezzia ha meritato il vantaggio dopo un buon inizio e nostro e poi potevamo subire anche il secondo probabilmente se subivamo il secondo sarebbe stata più complicata. Poi per quello che si è visto nel secondo tempo penso che le occasioni create il punto ci possa stare anche se ci siamo sbilanciati un po' però dovevamo recuperare quindi penso che alla fine il pari sia giusto. Non è il nostro modulo però quando devi recuperare anche perché insomma la Vigor la Mezzia si era un pochino abbassata il baricentro l'abbassato e questo ci permetteva di di tenere i quattro là davanti per giocare con due tronconi fortunatamente è andato bene siamo contenti perché è un punto molto importante con una squadra che in questo momento forse anzi senza forza è tra le più in forma del campionato. La Vigor la inizia al primo tempo sembrava insomma erano delle superie quello di essere un po' più più contento nella mano mentre nel secondo tempo poi si tirava sulla propria sinistra con l'ingresso di Camponano insomma ha dato molta spinta alla squadra allora io ci tengo a fare una Gaetano ha fatto molto bene in fase di spinta un po' meno in fase difensiva nel primo tempo era bloccato perché da quella parte l'attanzio sicuramente è più attaccante dell'esterno destro dall'altra parte siccome Gallo non era stato granché bene ieri nel primo tempo ha avuto delle difficoltà abbiamo messo l'edizia di là perché c'era la possibilità di spingere e di creare qualche pericolo infatti così è stato ma in realtà non lo conosciamo bene quindi ha fatto sicuramente un buon secondo tempo dopo un primo tempo così così mister se le rappresentazioni del suo collega ha detto che la Versa l'ha catalogato nelle prime cinque lei comporta ma io l'ho letto lo ringrazio e più che concordare io ho una speranza però l'obiettivo quello che abbiamo gradino è assolutamente quello della salvezza perché oggi siamo scesi in campo nel primo tempo secondo me con con lo specchio sicuramente non con la mentalità quella che aveva la mezza nel primo tempo dove ci ha aggredito ci ha picchiato sportivamente parlando si può essere quello del secondo tempo sì è quella del secondo tempo però regalare sempre il tempo noi veniamo puntualmente puniti dai episodi che secondo me concediamo noi i calci da fermo l'hanno battuto bene uno schermo e tutto quanto però prima Matteo era sulla spizzata di testa lì indietro ha concesso l'occasione del gol la traversa ripeto se il primo tempo finiva 2-3-0 la mezza l'avrebbe meritato nel secondo tempo è stata completamente un'altra partita dove noi abbiamo penso siamo stati 40 minuti che entravamo da campo della mezza terza e alla fine secondo me il pari giusto invece le sue favorite di questo torneo ma io il brindisi soltanto per i nomi non perché mi abbia pressionato molto la domenica è sicuramente un'ottima squadra ma rispetto alle altre ha nomi di grossa gradura gli altri fanno leva sull'organizzazione e sull'entusiasmo dei giovani quindi il brindisi va per forza messo tra la favorita numero uno però oggi appareggiavo il campo basso un campionato difficile dove secondo me se si riesce a trovare la regolarità dei risultati qualsiasi squadra può togliersi qualche soddisfazione ed arrivare a qualche traguardo che inizialmente neanche ci pensavo te l'ho detto loro non fanno niente di particolare che si riesce a trovare